Alla signora Ottavia Piccolo chiediamo la parola finzione. Allora finzione, i nostri vecchi attori, attori e attrici dicevano oh attenzione teatro è finzione, soprattutto quando qualcuno presa dal fuoco sacro faceva qualcosa che ne so se doveva dare uno schiaffo a qualcuno glielo dava veramente e quello restava con le cinque dita qui e allora gli diceva dopo in camerino carina teatro è finzione. Questo lo dico sempre a tutte le mie compagnie, le giovani compagne perché c'è questo malintendimento che il teatro sia la verità. No, 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 il teatro è pura finzione, deve far sembrare vero quello che vero non è e noi non siamo, perlomeno io, gli altri non lo so, fanno quello che gli pare non siamo immedesimati nella parte, tanto da non capire che cosa ci succede intorno anzi bisogna essere svegli, pronti e attenti, fingere qualcosa che si prova veramente. Grazie. Grazie.